Flavia Questo libro ha un ritmo assolutamente vorticoso che ti risucchia avanti e indietro nel tempo, punti di vista diversi, sei personaggi io sicuramente ho amato il personaggio di Alba perché l'ho trovato commovente, sincero e ovviamente empatizzato con la sua condizione dall'altro raccontata con una precisione e un modo anche di raccontare la violenza che non è da tutti, cioè non è edulcorata, non è finta, è una violenza vera è una violenza che quella che sentiamo ai telegiornali però raccontata nella quotidianità è una storia sui segreti che si mantengono, sui non detti che a volte anzi quasi sempre fanno molto più dei detti e in questo caso il passato si fa pesante per questi personaggi che devono cercare di proseguire le loro vite a volte conoscendo o subodorando dei segreti che potrebbero sconvolgerle